bentornati amici partiamo subito con un nuovo video abbiamo qui un ospite speciale che è la meravigliosa Canon EOS 5D Mark IV una camera che mi sembra di aver capito che sta riscuotendo diverso successo anche molti anni dopo la sua uscita addirittura stiamo parlando di una fotocamera che sta uscendo di produzione perché Canon ha annunciato che non produrrà più fotocamere reflex ma si orienterà solamente sul mercato mirrorless che in questo momento sembra molto molto promettente allora come mai vi parlo di questa fotocamera nel 2022 diverso tempo dopo la sua data di uscita ve ne parlo perché secondo me non solo è una fotocamera terribilmente attuale ma anche perché potrebbe essere una delle migliori camere che trovate in circolazione cominciamo col prendere in esame il body si tratta di un corpo macchina carrozzato veramente una costruzione incredibile questa è una fotocamera tropicalizzata resistente agli urti questo non vuol dire che la possiamo sbattere per terra fregandocene bellamente però questa è una fotocamera che può essere maltrattata può prendersi dei colpi perché è costruita in maniera tale da supportare un certo tipo di maltrattamento ovviamente stiamo parlando di una costruzione di stile un po vecchio cosa che a me piace molto perché se andiamo a vedere le mirrorless che escono oggi sono incredibilmente piccole molto più leggere questa è una fotocamera grossa massiccia e lo sapete questo che cosa significa che la mano calza bene non so se riuscite a vedere cioè la mia mano prende esattamente il grip della fotocamera questo è un grip che è giusto per la mia mano con una mirrorless io avrei le dita che scivolano qua sotto invece in questo caso la mia mano si chiude perfettamente sul grip ed è una sensazione bellissima perché in questo modo io ho proprio la sensazione che questo grip sia adatto alla mia mano devo dire che ho provato soprattutto di recente diverse mirrorless e al termine della mia ricerca mi sono comunque orientato su una Canon EOS R una fotocamera con cui mi trovo molto bene che ho già recensito in un video precedente e di cui vi lascio la card ovviamente mi sono trovato bene sulla Canon EOS R perché comunque la uso rigata la uso spesso su cavalletto la uso su un video slider quindi non la tengo quasi mai in mano la uso solo per fare video e non la uso per fare foto e quindi mi trovo bene però come grip questo secondo me è meglio quindi nel momento in cui avete la mano non dico grossa perché la mia mano non è gigante però se volete un grip comodo questa è una camera fantastica se parliamo di ergonomia veramente non ha uguali non ha uguali semplicemente per una questione di dimensione perché la Canon EOS R tutta la serie R di Canon ha un'ottima ergonomia è disegnata molto bene però è disegnata per una mano più piccola per essere più leggera più portatile tutto quello che vogliamo però nella mia mano non casca giusta nella mia mano casca giusta questa parlando anche di specifiche del corpo macchina qui abbiamo delle funzioni molto interessanti perché abbiamo una serie di bottoni personalizzabili con cui abbiamo la possibilità di richiamare alcune funzioni e queste funzioni devono essere comode per noi quindi non esiste un'impostazione giusta o un'impostazione che vi posso dire di copiarmi o cose del genere perché queste impostazioni cambiano a seconda di quello che vogliamo fare possiamo decidere per esempio di abbinare a un tasto un diverso tipo di messa a fuoco oppure possiamo personalizzare alcune impostazioni per passare da un'impostazione di scatto a un'altra impostazione di scatto con un solo pulsante sono tutte cose che ci vengono in aiuto nel momento in cui siamo dei professionisti abbiamo bisogno di essere efficienti e di lavorare in maniera rapida e fluida senza stare lì a pensare il fatto di poter preimpostare questi bottoni ci consente dopo di poter lavorare in scioltezza questa è una cosa che io non sempre uso però è molto bello sapere che c'è nel momento in cui ti dovesse servire la puoi usare ti serve un bottone personalizzato per compiere un'operazione in no time perché non hai tempo di ragionare ma sai che devi passare da un contesto all'altro hai un bottone clic te lo imposti prima dello shooting sapendo già cosa devi fare e non hai problemi sempre parlando di features del corpo macchina abbiamo un display che è rinnovato rispetto ai modelli precedenti quindi abbiamo un display che è ad altissima risoluzione questo non serve a tantissimo ovviamente perché non è un display su cui possiamo vedere chissà quali dettagli però rispetto alla 5d mark 2 il fatto di riuscire a vedere bene anche in una foto di gruppo larga se le persone hanno tutti gli occhi aperti ti può fare la differenza in questo caso abbiamo un display che ha una risoluzione molto maggiore una fedeltà anche di colore molto maggiore questa è una cosa che è ampiamente apprezzata perché comunque posto che la fotocamera non costa poco costa ancora abbastanza però avere tutte queste features dentro nel corpo macchina sono tutti upgrade che si fa rispetto a un kit precedente e che poi servono sul campo nel momento in cui io rivedo le mie foto qui riesco a capire bene se le ho fatte correttamente o se devo fare un secondo scatto quindi è importante questa cosa non è da sottovalutare altra cosa ovviamente questo display diventa touch quindi abbiamo il menu che è molto intuitivo quindi un altro punto a favore secondo me è sicuramente il menu il menu è molto molto complesso nel senso che c'è tanta roba questa non è un entry level quindi nel momento in cui apriamo il menu di una canon neos 1200 di ci sono su determinate cose nel momento in cui apriamo il menu di una 5d ci sono più cose ci sono più impostazioni c'è un mondo di cose che dobbiamo impostare possiamo lasciarle così perché il predefinito di default di solito va bene ma se vogliamo avere pieno controllo su quello che stiamo facendo molte cose dobbiamo andare a gestirle vi dico una stupidata magari la riduzione del rumore ad alti iso oppure la riduzione delle vibrazioni sono tutte cose che andiamo a impostare manualmente perché vogliamo fare delle scelte consapevoli in alcune fotocamere molte di queste cose non ci sono su questa fotocamera c'è tutto perché questa fotocamera eredita tutta la tecnologia dell'ammiraglia quindi è una fotocamera assolutamente completa ha un menu più complicato però è anche un menu molto intuitivo si naviga facilmente si riesce quasi sempre a trovare quello che si sta cercando semplicemente a intuito perché comunque le voci di menu sono molto chiare sono dipinte con dei colori diversi a seconda della sezione quindi è molto facile navigare all'interno poi ovviamente se non si sa cosa si sta cercando o si usa il manuale o si cerca un video dove siano spiegate le varie funzioni comunque è un menu che io trovo abbastanza intuitivo venendo da modelli precedenti ho tutto sulla punta delle dita trovo tutto subito per quanto riguarda il joystick gli amanti del joystick avranno pane per i loro denti perché qui come vedete c'è ancora il joystick quindi corpo macchina assolutamente completo nel senso che noi abbiamo la ghiera che serve per il diaframma la ghiera che serve per i tempi il bottone iso e si regolano gli iso e poi abbiamo il joystick quindi abbiamo la doppia possibilità possiamo navigare sul monitor che è touch ma possiamo anche usare il joystick questo a molti piace tantissimo per molti è un plus incredibile io vi devo dire la verità non lo uso così tanto il joystick nel senso che se non ci fosse userei il tasto a croce o una ghiera e non mi cambierebbe così tanto la vita per esempio sulla 6d non c'è il joystick c'è il tasto a croce io mi trovo bene uguale non mi cambia granché non è quello che mi fa la differenza certo è che avendo qui molti più punti di messa a fuoco il fatto di avere joystick e quindi di potersi orientare più rapidamente all'interno del menu dei punti di messa a fuoco è un plus considerevole parliamo un attimo della messa a fuoco stiamo parlando di una fotocamera con un sistema di messa a fuoco a 61 punti sono di gran lunga superiori a quelli che vi serviranno mai nella vita capisco che ci sia questa rincorsa ai punti di messa a fuoco anche perché stiamo rincorrendo il sistema mirrorlesser che fondamentalmente mette a fuoco su tutto il sensore quindi il fatto di avere ancora delle fotocamere che prediligono la parte centrale perché comunque i sensori di vecchia concezione mettono a fuoco solo qui in mezzo praticamente intorno è come se non esistesse e quindi si doveva fare focus e recompose cioè non è una roba così complicata io faccio la mia inquadratura metto a fuoco e poi mi sposto faccio questo movimento quindi metto a fuoco col mio punto di messa a fuoco e poi faccio l'inquadratura non è niente di devastante si è sempre fatto il fatto che adesso si punti a dare un sistema di messa a fuoco per cui non è più necessario farlo è una comodità ma porta anche dei contro perché il sistema di messa fuoco appunti mette sempre a fuoco la cosa più vicina al sensore della fotocamera quindi magari mette a fuoco il naso e non l'occhio i sistemi progrediti hanno il sistema di lock sull'occhio quindi l'autofocus sull'occhio che ti mette a fuoco automaticamente dove dovrebbe essere a fuoco quindi correttamente va a prendere l'occhio in un ritratto ti lascia comunque meno libertà perché magari tu non vuoi mettere a fuoco l'occhio quindi lì devi tornare a gestirtela in un'altra maniera su questo sistema c'è un sistema di messa a fuoco che riconosce i volti però non c'è ancora la messa a fuoco sull'occhio e poi comunque non si fanno solo ritratti quindi diciamo che abbiamo tutta una serie di casistiche in cui potrebbe essere necessario continuare a usare il punto di messa a fuoco centrale diversi di questi 61 punti di messa a fuoco 40 mi sembra circa sono a croce quindi comunque è un ottimo sistema di messa a fuoco ci sono dei casi in cui è indispensabile usare il sistema di messa a fuoco a punti vi faccio un esempio banalissimo siamo in africa scena idilliaca con un elefante che attraversa la scena e noi magari siamo su cavalletto e vogliamo scattare diverse pose di quest'elefante in movimento di questo branco di animali in movimento se siamo su cavalletto e vogliamo tutti gli scatti su cavalletto non possiamo fare focus e ricomposo ogni volta perché poi le foto sarebbero tutte sfasate noi le vogliamo tutte uguali allora usiamo il sistema di messa a fuoco a zone così nel momento in cui gli animali si spostano ci pensa la mia camera a tenere a fuoco quello che si sta muovendo e lo sfondo rimane sempre uguale questo è un tipico caso dove questa è una camera devastante perché questa ci consente veramente di seguire bene tutta la scena oppure un altro esempio stiamo facendo sport facciamo fotografia sportiva posto che esistono fotocamere adesso più progredite di questa che rendono ancora meglio la nuova canon eos r3 è devastante da quel punto di vista è veramente devastante però anche con questa camera si ottengono degli ottimi risultati perché comunque un sistema di messa a fuoco rapido comunque un sistema di messa a fuoco con tanti punti ed è più veloce di me nel mettere a fuoco per cui se io anche sto fotografando un moto gp e sto beccando i motociclisti che passano questa col sistema di messa a fuoco a punti ce la fa a beccarmi la moto quindi assolutamente ce la fa questi sono casi in cui si usa il sistema di messa a fuoco automatico perché lì la camera è più rapida di me quindi lì assolutamente è apprezzatissima questa cosa diciamo che io lo uso poco io uso quasi sempre il punto di messa a fuoco centrale perché io faccio fotografia commerciale fotografia posata raramente faccio contesti dinamici anzi a me non piacciono i contesti dinamici a me piace stare in studio magari dove ho il pieno controllo su quello che sto facendo mi piace stare in un contesto comunque dove si è ragionato su quello che si sta facendo non dove si deve scattare pronti via hop al volo diciamo che non sono uno da fotografia sportiva fotografia naturalistica mi piace fare un lavoro ragionato in piuttosto che stare lì e cogliere l'attimo ecco perché cogliere l'attimo è una cosa mi sembra sempre che ci sia troppa casualità nel cogliere l'attimo mentre in una cosa ragionata trovo più la mia dimensione ecco però anche per chi fa fotografia sportiva o chi fa fotografia naturalistica questa è una camera eccezionale anche perché è tropicalizzata per quanto riguarda la sensibilità iso e la gamma dinamica siamo in una botte di ferro perché se veniamo da psc è un cambio di passo incredibile è una camera allucinante ti dà un file d'uscita intanto che è più grande e poi che è molto più complesso è veramente un piacere stare a computer a lavorare su un file d'uscita da questa fotocamera perché lo si può veramente distruggere maltrattare all'inverosimile la foto sembrerà ancora bellissima anche ad alti iso devo dire che regge abbastanza bene questa è una fotocamera che ha un'espansione iso pazzesca che non useremo ovviamente mai per quanto mi riguarda dopo iso 3200 non c'è nulla quindi non per quanto mi riguarda non si va mai oltre nemmeno nei casi più disperati ovviamente questa camera arriva senza problemi a iso 6400 con del rumore tutto sommato accettabile arriva anche ben più in alto mi sembra che abbia le possibilità di espandere fino a iso 32000 e 100 2000 una cosa del genere cioè delle sensibilità veramente fuori dall'ordinario che io spero che nessuno usi mai nella vita se non per fare dei test veramente per quanto riguarda la gamma dinamica abbiamo una gamma dinamica che è molto migliorata rispetto ai modelli precedenti quindi abbiamo una gamma dinamica che è meglio rispetto alla 5d mark 2 anche rispetto alla 5d mark 3 abbiamo una lettura delle luci e delle ombre che è migliorata e potenziata quindi abbiamo delle foto che già con meno post produzione sono già più belle hanno bisogno di essere toccacciate di meno ma possono essere toccacciate di più quindi un file di uscita assolutamente complesso che ci permette di portare i nostri scatti a un livello successivo parliamo un attimino del card slot so che questa è una nota dolente per molti alloggia due memory card infatti abbiamo una compat flash e una sd ora questo può piacere può non piacere io vi dico la mia opinione personalmente sono contento che ci sia il double card slot perché è una cosa in più mi va bene che ci sia è una cosa in più la prendo va bene mi sta benissimo l'accetto diciamo che a me non fa tutto questo effetto utilizzare la doppia card non sono uno che fa la copia del materiale su due card quindi poi che si trova due card uguali per un motivo semplicissimo dunque io faccio questo lavoro seriamente dal 2012 ho iniziato prima prima non lo facevo seriamente ho iniziato seriamente dal 2012 quindi se siamo nel 2022 nel momento in cui esce questo video sono dieci anni che io faccio questo lavoro in dieci anni io vi dico che non ho mai bruciato una memory card adesso tocco ferro però non ho mai bruciato una memory card né sd né flash mai e di foto ne ho fatte e mi è capitato qualche volta di avere qualche file corrotto quindi magari su uno shooting di 600 foto ce n'erano due corrotte una volta mi è successo una quindi diciamo che nel momento in cui io esco a fare uno shooting sono matematicamente sicuro che le mie foto ci saranno cioè non ho mai bruciato una card in dieci anni quindi non sento questo bisogno di avere la copia di tutto quanto di avere la doppia card ok c'è ma io la uso semplicemente come una memoria in più nel momento in cui esaurisco la mia flash card che è la carta principale vado a scrivere sulla seconda ora una cosa di cui non sono contentissimo per quanto riguarda l'alloggiamento delle schede è il fatto che nel momento in cui io vado a scrivere video 4k posso farlo solamente sulla flash card quindi questo è un piccolo contro in realtà perché io ho sì due card slot però nel momento in cui sto facendo video 4k e se sto usando questa camera per fare video e sto facendo 4k la userò solo per quello nel momento in cui sto facendo 4k non posso switchare sulla seconda card ma devo per forza scrivere sulla flash perché la flash è considerato un formato più professionale più performa era almeno era perché adesso le sd viaggiano che è una meraviglia però all'epoca dell'uscita di questa camera si è pensato probabilmente di andare a scrivere i video 4k solo sulla flash per la sua affidabilità e quindi non è possibile scriverli direttamente sulla sd questo è un piccolo contro secondo me perché per come lavoro io io non faccio il duplicato dei file cosa che in questo caso sul 4k non potrei neanche fare ma vado a riempire entrambe le mie card quindi ho più spazio per il mio materiale in questo caso non lo posso fare devo cambiare la memory card questa è una cosa che su modelli successivi per esempio sulla canone osr è stato corretto dal mio punto di vista corretto dal punto di vista di molti altri è stato peggiorato perché c'è un solo card slot sulla eosr con la sd e io lì mi trovo meglio perché a quel punto io metto la sd faccio il mio video 4k finita la memoria tolgo la sd ne metto un'altra e sono pronto a continuare a lavorare per me è più comodo e sono tranquillissimo che non se ne brucerà mai una non ne ho mai bruciata una in dieci anni non credo che comincerò a bruciarle adesso parlando delle ottiche questa camera è ovviamente compatibile con tutto il parco lenti canon della serie ef sia serie l sia serie normale non è compatibile con le lenti efs perché quella è la serie per i corpi crop quindi per i corpi apsc quindi se abbiamo un bellissimo 17 55 efs quello non è compatibile con questo corpo macchina qui andremo magari a montare un ef 24 72.8 quindi abbiamo tutta una serie di ottiche che sono già compatibili con questa camera tutte le ottiche di vecchia generazione non possiamo montare le ottiche di nuova generazione le ottiche rf quelle pensate per mirrorless sono compatibili solo con mirrorless quindi non montano più su questo corpo macchina però quelle sono lenti che costano molto di più quindi se noi abbiamo un parco lenti passatemi il termine vecchio che non è vecchio nel senso di antiquato è vecchio nel senso che è già acquisito ce l'abbiamo già saranno tutte compatibili le lenti di qualità lenti professionali saranno tutte compatibili con questo corpo macchina quindi andiamo a lavorare sempre nell'ecosistema canon dove è quasi sempre tutto compatibile sono compatibili tutti i flash gli speed light i trigger i telecomandi abbiamo un'ampia compatibilità sulle lenti escluse le lenti rf che sono quelle nuove dedicate al sistema mirrorless parliamo un attimo del comparto video allora questa è una fotocamera che se la cava alla grande in ambito video perché arriva a girare in 4k a 24 frame al secondo arriva a girare in full hd a 60 frame al secondo arriva a girare in 720p a 120 frame al secondo quindi riusciamo anche a fare uno slow motion dignitoso e tenete conto che comunque il file di uscita di questa camera se noi abbiamo uno slow motion a 720p girato a 120 frame al secondo è vero che la risoluzione è scalata però è vero anche che se noi lo andiamo a riportare al formato originale di full hd non dico 4k ma sicuramente se lo riportiamo a full hd la resa è fantastica non si vede la differenza quindi noi possiamo tranquillamente girare uno slow motion con questa camera e poi andare a scalarlo in full hd e la differenza sostanzialmente non si vede potrei dirvi che potremo anche tirarlo in 4k e la differenza si vede comunque poco un po si vede un pochino si vede soprattutto se lo sai ma se non lo sai ci passi sopra e non te ne accorgi quindi è una cosa che assolutamente si può fare ovviamente io non vi consiglierei mai di andare a girare a 720p per fare lo qualcos'altro però in mancanza di meglio con questa camera lo potete fare ovviamente nel momento in cui andiamo a girare in 4k abbiamo sempre il fastidioso crop che affligge quasi tutti i modelli canon fino a questo punto con l'eccezione di qualche mirrorless ammiraglia uscita un pochettino di tempo dopo quindi abbiamo questo problema abbiamo sempre il problema che la lunghezza focale effettiva non sarà esattamente quella abbiamo sempre il problema che nel momento in cui giriamo 4k avremo una perdita sul grandangolo e andremo ad aumentare l'angolo di campo percepito della nostra immagine quindi questo può essere fastidioso un'altra cosa che non mi fa impazzire di questa fotocamera ma che si rimedia è che non ha il formato silog integrato nativo quindi questo formato può essere implementato su questa camera però bisogna pagare un upgrade quindi bisogna farsi fare un upgrade dalla casa produttrice si può fare ovviamente si può fare benissimo però è seccante il fatto che non sia nativo io vi dico che questo questo upgrade non l'ho fatto per esempio perché io uso questa camera solo per fare foto quindi non ho bisogno di quell'upgrade non mi serve io per fare video uso la canon eos r che il silog ce l'ha già quindi da quel punto di vista sono a posto se voleste girare silog su questa camera lo potete fare ma dovete farvi farvi fare questo upgrade dalla casa madre per quanto riguarda il colore solamente le ultime release hanno saputo fare di meglio perché per quanto riguarda vabbè per quanto riguarda la fotografia ovviamente abbiamo sempre la nostra solita color science di canon che se la cava alla grande e poi dipende dalla post che facciamo per quanto riguarda il video andiamo a girare in 8 bit per cui per esempio canon eos r ha la possibilità di girare a 10 bit però non nativa solamente su memorie esterne altrimenti si registra 8 bit e quindi io registro a 8 bit in questo caso pure stiamo registrando a 8 bit quindi siamo sempre lì stiamo parlando di una camera comunque di qualità molto alta ovviamente non è una cinepresa non è una red non è una harry lì si parla di formati diversi con profondità colore potenzialmente superiori però stiamo comunque parlando di un prodotto da cui si tira fuori un video di tutto rispetto con una parvenza anche di video cinematografico quindi è una cosa con cui possiamo assolutamente lavorare alla grande a livello professionale ovviamente se dobbiamo fare un film vero e proprio non è la scelta più indicata anche se come qualità ci arriverebbe quasi però non è la scelta più indicata proprio perché non è la cosa sua non è nata per questo veniamo un attimo al comparto audio per quanto riguarda l'audio ovviamente questa fotocamera ha un microfono integrato che ovviamente come saprete già non serve a niente andatevi a vedere il mio video su come si registra l'audio perfetto se volete qualche info in più su come deve essere catturato correttamente un audio per un video e se vedete io qui sto utilizzando un microfono quindi la camera che sto utilizzando ha un microfono che non è neanche male ma io qui ho un microfono uso questo per registrare perché perché è giusto così per tutta una serie di motivi video in card andate a scoprire il perché ovviamente la 5d ha un microfono integrato ma cosa ancora più importante ha l'input per il microfono quindi ha ovviamente essendo una camera di fascia professionale ha la possibilità di avere un ingresso microfonico per collegare un microfono di altro tipo un microfono più professionale o semplicemente posizionato in una maniera tale da dare una ripresa migliore perché se io ho la mia camera a una certa distanza l'audio ne risente il microfono deve essere vicino quindi il microfono deve essere esterno quasi sempre 99 periodico per cento di casi il microfono deve essere esterno ovviamente noi possiamo registrare con l'audio della fotocamera sappiamo che non stiamo tirando fuori il meglio che possiamo perché il microfono della camera non è fatto per acquisire l'audio è fatto per avere un audio con cui sincronizzare è fatto per battere le mani e avere l'audio di riferimento con cui sincronizzare l'audio che proviene dal microfono nel peggiore dei casi nel migliore dei casi si va direttamente con l'ingresso nella fotocamera si attacca il jack e si registra direttamente l'audio dal microfono dentro nella fotocamera questo è il modo migliore di lavorare e questa camera ce l'ha parlando di compatibilità sulle batterie anche qui siamo in una botte di ferro perché questa fotocamera usa la stessa batteria che troviamo dalla canoneos 70d la troviamo nella 80 nella 90d la troviamo nella 6d la troviamo nella 7d la troviamo pressoché in tutte le camere di quella fascia in su la stessa identica batteria della canoneos r esattamente la stessa batteria quindi da quel punto di vista se abbiamo più fotocamere di questa stessa fascia se abbiamo due 5d o se abbiamo se abbiamo una 5d e una 7d se abbiamo insomma sono tutte compatibili le batterie quindi se siamo fuori con una camera e si scarica possiamo prendere la batteria dall'altra camera fare cambio e sono perfettamente compatibili da quel punto di vista zero problemi ecco parliamo un attimino del prezzo perché questa fotocamera giustamente mi verrebbe da dire non si deprezza non si deprezza più ormai nel senso che costa mi sembra che costi sui 2000 costa più di 2000 euro costa 2500 euro mi sembra che rimane lì è stabile costa meno rispetto per esempio ai modelli successivi che sono usciti che costano 4000 euro quindi stiamo parlando di costi anche proibitivi ma questa invece è una camera che più o meno un professionista si può permettere anche un amatore voluto dovrebbe potersela permettere quindi per quanto riguarda il prezzo io la considero una camera di media accessibilità non sono i 6000 euro di una miraglia non sono i 4000 euro di un corpo evoluto avanzato sono un bel 2000 euro però stiamo parlando di un investimento che ti dura potenzialmente una decina d'anni perché una camera così è indistruttibile bisogna veramente lanciarla dal quinto piano per romperla quindi comunque è un investimento che poi ti rimane ed è una camera che secondo me è giusto che non si deprezzi perché quello che offre non si deprezza nel senso che 30 megapixel sul file fotografico e 4k a 8 bit sul formato video sono cose che non si deprezzano vi faccio notare che per quanto riguarda la comunicazione ai giorni nostri il 90 per cento è orientato sui social i social hanno abbassato la qualità di tantissimo perché si gira tutto su mobile si gira tutto su cellulare si gira tutto in verticale formato proibitivo per una camera come questa perché molti cavalletti non lo supportano ci vogliono delle strumentazioni dedicate il monitor diventa scomodo insomma questa non è una camera pensata per fare video verticali questo va detto non è assolutamente pensata per girare in verticale pensata per girare in orizzontale se stiamo parlando di video stiamo parlando di foto ovviamente si fanno le foto verticali con il grip tutto quello che vuoi però per quanto riguarda il video è una camera tradizionale quindi è pensata per girare in 16 non non in 9 sedicesimi non solo ma è pensata per dare un file pesante per fornire un file pesante nel momento in cui noi giriamo 4k abbiamo un file di uscita che è a 500 megabyte per secondo quindi è un file pesante abbastanza complesso non complessissimo e ce ne sono di più complessi ovviamente se andiamo su videocamere più complesse abbiamo dei file anche più pesanti con tutto quello che ne consegue poi perché la nostra macchina fa più fatica a elaborarli abbiamo bisogno di più spazio di archiviazione facciamo più fatica a lavorarlo ed esportarlo eccetera però esistono anche camere più performanti da quel punto di vista però comunque stiamo parlando di un file pesante non è un file mobile ready non è un file che prendi e sbatti su instagram quindi questa camera ti dà molto di più di quello che normalmente serve ai giorni nostri perché normalmente ai giorni nostri con la qualità di un iphone sei a cavallo non ti può dire niente nessuno perché l'iphone è il modello di riferimento è lo standard l'iphone è diventato lo standard perché è quello con cui si comunica è quello con cui si fanno i video per le stories è quello con cui le influencer fanno i video per instagram e quindi è lo standard nel momento in cui io vado a lavorare con una fotocamera come questa io sono molto oltre lo standard cioè questa è molto meglio rispetto a un cellulare è molto meglio sotto tutti i punti di vista quindi dal punto di vista della qualità sono in una botte di ferro sono nei guai dal punto di vista della velocità perché ovviamente questo è un contenuto che non ti posso consegnare su whatsapp subito dopo averlo girato potrei anche perché c'è la funzione di gps e di wifi integrato quindi io potrei con l'app mandarti direttamente file ma peserebbero una cosa spropositata sarebbe proibitivo lavorare in questo modo a questo proposito però vi aggiungo che appunto c'è la modalità gps integrata che è molto utile perché nel momento in cui noi andiamo a scattare delle immagini ci troviamo poi integrato nei metadati dove è stata scattata la foto se abbiamo il gps attivo questo può essere utile magari per la geolocalizzazione se vogliamo geolocalizzare automaticamente i nostri scatti magari per ricordarci dove eravamo piuttosto che questo può risultare molto utile ci ritroviamo automaticamente tutte queste informazioni nei metadati della nostra foto un'altra cosa che può essere molto molto utile è il fatto di avere il wifi integrato quindi io posso mandarmi le immagini direttamente sul telefono e ci sono anche un altro paio di cose che posso fare grazie a questo sistema di wifi integrato per esempio io posso collegare tramite l'app di canon posso collegare la mia fotocamera al mio cellulare e nel momento in cui mi sto facendo un video come in questo caso siccome questa camera non ha il display flippabile tiltabile che per me francamente è un pro perché questa per me è una fotocamera e quindi io la userò sempre come una fotocamera tradizionale sempre perché mi piace così a me piace quella roba lì non la uso per fare video se facessi video servirebbe anche a me quel monitor lì ma io la uso solo per fare foto nel momento però in cui la dovessimo usare per fare video e volessimo un monitor esterno si può connettere tranquillamente direttamente tramite l'app al telefono e si può anche mettere a fuoco cliccando direttamente sul monitor del telefono quindi questa è una cosa molto interessante compatibilità che ci permette di far fronte tranquillamente al fatto di non avere il monitor flippabile è un plus a questo punto secondo me perché quindi non ho il monitor flippabile che è una cosa che a me inquieta sempre un po' perché la vedo come una cosa fragile cioè la prima cosa che si rompe secondo me quella cosa lì quindi il fatto di non avercela su un corpo macchina di questo costo per me va benissimo così il fatto di poter sopperire col mio telefono mi mette al riparo da qualsiasi problema perché se mi dovesse servire quella roba lì ho la soluzione in tasca tiriamo un po' le somme per chi è questa fotocamera a chi è consigliata allora secondo me questa è una fotocamera che vi dà globalmente una qualità al di là delle vostre aspettative ovviamente se venite da Hasselblad magari direte ferrari stai dicendo una cavolata ma se non venite da Hasselblad se venite da una qualunque altra fotocamera di fascia inferiore qui state facendo un salto di qualità gigante se venite da psc anche se venite da una full frame della stessa fascia ma precedente se venite anche da una 5d mark 3 fate comunque un salto di qualità veramente veramente notevole ovviamente visto i costi io non consiglio questa fotocamera a chiunque non la consiglio agli amatori perché a un amatore io consiglierei una 6d per cominciare una fotocamera comunque molto bella con cui io lavoro tranquillamente uso più spesso la 6d di quanto non usi la 5d perché comunque mi dà un file lievemente più leggero è un pochino più piccola è più snella meno punti di messa a fuoco lavoro più veloce io uso la 5d quando devo fare un lavoro complesso e quando mi serve la massima qualità possibile in post produzione quando devo maltrattare il file ma se sono se sto facendo un lavoro facile se sto facendo un lavoro in scioltezza non ho bisogno di 30 megapixel e non ho bisogno di tutti questi punti di messa a fuoco quindi vado tranquillissimo con la 6d che è la camera che consiglierei a un amatore evoluto perché la camera perfetta per un amatore evoluto e per un medio professionista questa qui è per un professionista alto che deve riuscire a cavarsela sempre in qualunque situazione e a me non serve sempre mi serve solo ogni tanto ogni tanto voglio viziarmi usandola ma non mi serve sempre quindi non la consiglio agli amatori e non la consiglio a un professionista alle prime armi questa non è una prima camera non va bene come prima camera che acquistiamo non è il primo acquisto che dobbiamo fare perché per una serie di motivi ve ne dico due che mi vengono in mente primo se questa è la mia prima camera io sto prendendo una macchina da corsa prima ancora di aver finito col foglio rosa per cui mi ritrovo una camera che è molto performante che sa fare un sacco di cose ma io non la so impostare non le so dire cosa deve fare e quindi il rischio è che io mi affidi alla camera dicendo la camera è bella camera se la cava da sola e quindi io perché abbiamo appena detto ho appena iniziato quindi sono un neofita sono anche un professionista ma che ha appena iniziato in questo momento io mi sto affidando completamente alla mia fotocamera perché la mia fotocamera è bella e quindi non faccio lo sforzo di dire devo tirare fuori il meglio della mia fotocamera ma dico semplicemente la mia fotocamera è bella mi caverà lei dai pasticci questo è sbagliatissimo per noi perché così ci abituiamo a fare troppo affidamento sulla camera ora con i modelli successivi sono sempre più stipati di reparti tecnologici per cui fanno sempre più tutto loro in automatico per cui in realtà veniamo via via sgravati da questa cosa dobbiamo essere sempre meno competenti perché la camera compensa sempre di più però conoscere le basi che ci stanno dietro e sapere come si risolvono i piccoli problemi durante un asciutto in fotografico su una camera poco evoluta secondo me ci aiuta perché poi quando si ripropongono quei problemi anche su una camera evoluta di nuova generazione se noi sapevamo risolvere quei problemi in maniera meccanica banalmente magari spostando una luce o cambiando l'inquadratura abbiamo un vantaggio rispetto a che se diciamo semplicemente vabbè la camera fa in automatico ci riuscirà lei capite da soli che è un grosso vantaggio se noi conosciamo il nostro mestiere la nostra strumentazione se noi quando abbiamo appena iniziato ci affidiamo subito a una fotocamera di questa fascia da un lato rischiamo di non sfruttare appieno tutte le sue funzioni perché non le conosciamo perché sono troppe e quindi andremo ad approfondirne solo qualcuna dall'altro lato ci affidiamo troppo alla complessità della macchina affinché sia lei a risolvere le problematiche in cui incappiamo mentre invece dobbiamo pensare e risolverle noi perché se le risolviamo noi è sempre meglio che se le risolve la camera nel momento in cui una scena non va bene io posso spostare una luce posso spostare il mio modello la mia modella posso riallestire il set in un altro modo posso aspettare un momento diverso della giornata posso fare mille cose queste sono cose su cui ho ragionato se invece io dico la camera fa in automatico tanto se la cava lei non ho fatto niente di tutto questo e quindi ho messo meno competenza e ho sperato che la camera facesse il lavoro al posto mio la camera qualcosina fa ma non potrà mai prendere il posto della vostra testa questo è il primo motivo il secondo motivo è appunto che i menu sono molto ampi in una fotocamera come questa se noi partiamo da una fotocamera entry level come ho fatto io io sono partito da delle fotocamere di fascia bassissima ho imparato bene i menu ho imparato a usarle bene ho imparato a cavare il meglio da quelle camere ho imparato a tirar fuori quello che volevo da una fotocamera di fascia bassa a quel punto fare lo step successivo e prendere una camera più evoluta sono pronto perché conosco i menu quindi vedo che ci sono delle opzioni in più e dico ok queste opzioni sono nuove non le conoscevo questi bottoni magari anche sul corpo macchina sono bottoni opzione nuovi che non conoscevo mi imparo solo quelli però perché padroneggio già tutto il resto e quindi vado semplicemente a implementare quello che so già fare inoltre se io andassi a prendere questa come prima fotocamera sarebbe veramente sprecata perché la userei per fare i miei tentativi per fare i miei esperimenti quindi per dire adesso facciamo le prove faccio le prove luce le prove colore capisco come funziona capisco i tempi capisco i diaframmi banalmente una fotocamera come questa è sprecata per un neofita per il semplice motivo che questa camera ha un costo molto alto intendiamoci e non costa poco nel momento in cui io la prendo come prima camera dovrò comunque fare degli esperimenti perché dovrò capire quali sono i miei limiti quali sono i miei gusti sviluppare un mio stile e quindi butterò via tantissimi scatti che andranno via in prove che saranno foto orribili non mi ricordo chi è che disse le prime diecimila foto che facciamo sono le nostre peggiori ed è vero ragazzi perché quando noi cominciamo a fare foto le prime che facciamo fanno schifo quindi le prime foto che andiamo a fare con questa camera sono buttate ma questa è una fotocamera molto costosa e la casa produttrice ti dà 150.000 scatti come margine oltre i 150.000 scatti diciamo che siamo a rischio che lo specchio si rompa che ci siano dei guasti di tipo meccanico quindi il fatto di dire ho usato una camera così costosa per capire come si scattava è veramente uno spreco bisognerebbe prendere una camera di fascia bassa per imparare una volta che si è imparato allora si può lavorare su una camera come questa lo so che sembra un discorso da taccagni però pensateci bene perché è così io quando arrivo e questa camera io ce l'ho da poco l'ho presa di recente non ce l'ho da tutta la vita quindi è un acquisto recente per me il fatto di dire io lavoro su questa camera per me significa anche che io faccio meno scatti possibile cioè io quando faccio un set di still life non faccio 8 milioni di scatti perché devo capire cose la luce mica la luce io allestisco il set so già come lo devo allestire so già dove devo mettere le luci so già come posizionare i prodotti certo faccio uno scatto di prova è ovvio per vedere come viene e certo magari non va bene al primo colpo anzi non va mai bene al primo colpo devo sistemare due cose però tendo a lavorare molto con le luci pilota quindi guardo dentro nel mio oculare guardo la scena com'è con le luci pilota dei miei flash cerco di capire l'angolo di incidenza della luce cerco di posizionarle bene prima di cominciare a scattare questo un neofita non lo fa neofita comincia a scattare subito e mette a posto man mano che scatta quindi magari ci troviamo per fare una foto magari il cliente mi ha chiesto una foto still life io ne ho fatte 40 fare 40 foto di prova quindi 39 foto di prova è una buona su una camera come questa è uno spreco gigante quindi su questo ci vuole veramente una riflessione perché se state cominciando e quindi ovviamente dovrete fare molti scatti di prova per capire come funziona questo mestiere io vi sconsiglio una camera come questa vi consiglio una camera di fascia molto bassa se dovete ancora imparare poi se avete soldi da buttare ve lo dico col cuore in mano prendete le entrambe cioè vi prendete questa per fare lo scatto buono e vi prendete un entry level per fare tutte le prove che volete fare le prove su questa è veramente uno spreco è uno schiaffo alla povertà veramente per cui riassumendo consigliata solo ai professionisti solo a chi già la sa usare magari a un amatore evoluto un amatore evoluto che ha già fatto scuola su delle camere più piccole vuole passare a questa va benissimo posto che se la possa permettere ovviamente un amatore non rientra della spesa mentre un professionista sì quindi dipende dalle tasche di ciascuno andiamo a vedere i generi fotografici per cui questa fotocamera è consigliata secondo me questa camera copre il 100 per cento delle casistiche perché possiamo farci still life possiamo farci fotografia in studio quindi ritratto possiamo farci fotografia di interni possiamo fare fotografia naturalistica perché comunque tropicalizzata regge benissimo pioggia schizzi se la cava benissimo non vi dico di metterla sotto la doccia però è una fotocamera che comunque l'acqua la tiene ci si può fare sport perché comunque è una camera con una messa a fuoco veloce come dicevamo prima passando al comparto video è una camera che anche qui se la cava a fare un po tutto perché ci si possono fare delle mini produzioni video si possono fare dei film dei corti si possono fare degli spot pubblicitari senza nessunissimo problema è una camera che regge benissimo una molteplicità di casistiche di situazioni oltretutto ha una batteria che dura abbastanza mi sembra che abbiano fatto il confronto e hanno stabilito che questa fotocamera ha una batteria che dura circa 15 minuti in più rispetto alle omologhe mirrorless quindi addirittura andiamo a guadagnare qualcosina di batteria su questa camera non per il fatto che il monitor sta spento è questa una batteria che dura 15 minuti in più di ripresa cioè 15 minuti di ripresa video continua abbiamo 15 minuti in più di batteria quindi anche da questo punto di vista è una camera che assolutamente non si inchina a nessuno in chiusura voglio spendere una parola per parlarvi del dual pixel perché è un sistema che è passato quasi un po in sordina perché poi molti non lo usano e vi dico la verità io non lo uso quindi sono il primo che non lo usa per una serie di motivi che adesso andiamo a spiegare il dual pixel fondamentalmente che cosa fa nel momento in cui noi abbiamo il nostro sensore abbiamo i nostri fotodiodi abbiamo però uno sfasamento per cui è come se avessimo una doppia immagine noi abbiamo i fotodiodi che sono raddoppiati per cui abbiamo il nostro senso sono raddoppiati in profondità quindi noi abbiamo il nostro sensore abbiamo i fotodiodi qui e poi abbiamo un secondo strato subito dietro questo che cosa significa significa che nel momento in cui noi abilitiamo la modalità dual pixel row noi stiamo scattando un file row che peserà il doppio perché pesa il doppio perché fondamentalmente ha registrato il doppio delle informazioni questa è una cosa molto interessante soprattutto quando scattiamo con una profondità di campo molto sottile quindi se stiamo scattando a f1.2 o inferiori questa è un'opzione che ci può dare una grossa mano perché lo scatto row col dual pixel ci consente di andare a scegliere dove è esattamente il punto di messa a fuoco in quel gap sottilissimo tra le nostre due serie di fotodiodi quindi ci permette di andare a spostare il piano di messa a fuoco all'interno della nostra foto questo è molto molto utile quando stiamo scattando ritratti per esempio con una profondità di campo molto sottile se io voglio che l'occhio sia perfettamente a fuoco magari non sempre ci riesco perché a volte con quelle aperture magari mette a fuoco la punta delle ciglia e il pulbo oculare risulta sfocato ebbene con il dual pixel row noi riusciamo a sopperire a questa cosa quindi se stiamo facendo un set fotografico della massima importanza possiamo pensare di scattare in questa modalità è un file che peserà molto di più ovviamente ma è bene sapere che c'è perché se stiamo scattando vi dico per esempio mi dicessero a me devi fare una foto a Naomi Campbell caspiterina però Naomi Campbell non ha tempo da perdere lei sa già come mettersi è una professionista non le devi dire come si deve mettere lo sa già lei si mette lì e tu devi fare pum una foto e via e io lì lo uso il dual pixel row perché lì non voglio assolutamente rischiare che quell'unica foto che le faccio non vada bene quindi uso questa modalità e in questo modo mi garantisco la possibilità di dire nel momento in cui sono a casa se per sfiga il sistema di autofocus avesse toppato proprio quella volta lì io posso fare un micro aggiustamento e posso recuperare il fuoco dove lo voglio quindi è bello sapere che questa modalità c'è io vi dico non la uso non la uso perché è la tipica cosa che dimenticarsela accesa è un peccato perché poi hai tutte le foto che pesano il doppio e non sfrutti mai la cosa quindi io la tengo spenta mi dovesse capitare un contesto di quel tipo dove dici guarda hai un colpo solo puoi fare una foto sola e non la puoi sbagliare devi fotografare cosa ne so devi fotografare Barack Obama che viene in visita a Milano e cavolo lì lo usi il dual pixel bene amici io credo di avervi detto tutto quello che vi dovevo dire su questa fotocamera spero si sia capito quanto a me piaccia questa fotocamera e ci tengo a dirvelo questa è in assoluto la miglior fotocamera che io abbia mai avuto usato o posseduto questa è la migliore che io abbia mai avuto in mano in vita mia non ho mai avuto in mano un Hasselblad certo però questa qui è di gran lunga la migliore che io abbia mai avuto in mano per una serie di motivi per il grip per tutte le funzioni che sono state impacchettate all'interno del colpo macchina per l'indiscussa qualità di tutti i file d'uscita che escono da questa fotocamera io quando prendo in mano la 5D Mark IV sono sicuro che verrà fuori un file d'uscita eccezionale poi se ho fatto bene la mia foto la composizione le luci sarà una resa eccezionale se ho scattato a caso in automatico ovviamente avrò un file d'uscita eccezionale con una foto brutta però quello dipende da me è colpa mia non dipende più dalla camera per quanto riguarda il confronto tra questo tipo di fotocamera e le fotocamere mirrorless credo che uscirà a breve un video su questo argomento quindi se state guardando questo video indifferita è probabile che lo troverete già andremo a fare una comparazione punto per punto tra questa fotocamera e le fotocamere di fascia più moderna in questo caso andremo a prendere in considerazione soprattutto la Canon EOS R perché è l'altra fotocamera che io possiedo e quindi di cui vi posso parlare con cognizione di causa perché un conto è leggere le specs dal sito e un conto è averla in mano e testare esattamente quello che può fare quello che si può cavare da questo oggetto a questo punto io vi invito a dirmi la vostra vi aspetto nei commenti perché sono curioso di sapere cosa ne pensate secondo voi vale ancora la pena un acquisto di questo tipo nel 2022 la mia opinione ve l'ho già detta secondo me assolutamente sì posto che questa camera fa bene sia foto che video ma io la preferisco per fare foto quindi l'ho già detto in un video precedente se io dovessi fare solo video andrei sicuramente su mirrorless questo va detto però nel momento in cui io devo fare entrambe le cose preferisco una soluzione di questo tipo e nel momento in cui devo fare foto preferisco una soluzione di questo tipo se dovessi fare solo video o quasi solo video allora andrei su mirrorless quello sicuramente perché comunque la Canon EOS R costa uguale abbiamo un prezzo che è praticamente lo stesso ormai tra queste due camere quindi qui la scelta è veramente una scelta di grip una scelta di robustezza una scelta anche di peso perché comunque a me piacciono le camere pesanti quindi io mi trovo meglio con questa rispetto che con una mirrorless mi trovo molto meglio con questa perché ha il peso giusto per la mia mano è proprio una questione di feeling e può anche essere in certi casi una questione di compatibilità tra lenti perché se io ho già tutto il parco lenti Canon precedente potrei preferire questa fotocamera per non dover andare a introdurre l'anello adattatore su mirrorless che sì funziona e funziona anche bene però mi rende tutti gli obiettivi molto più lunghi quindi ho tutti gli obiettivi che poi pendono in avanti e questo io l'ho trovato molto fastidioso avere la lente che pende continuamente in avanti su un corpo macchina piccolo a me non piace quindi in quel caso preferisco sicuramente rimanere su una reflex e tenermi le mie vecchie lenti che funzionano ancora preferisco quindi avere una mirrorless con cui faccio cose video e avere poi delle reflex con cui faccio un po' di foto e un po' di video le foto io preferisco ancora farle sul sistema reflex mi dà più affidabilità la batteria dura di più tutte cose che abbiamo già detto per quanto riguarda la messa a fuoco non perdo niente perché io comunque userei sempre il punto di messa a fuoco centrale anche su mirrorless quindi sono abituato a lavorare così e lavoro meglio così e salvo quella volta nella vita che come dicevamo che fotografi uno stormo di cormorani dal traghetto a parte quella volta lì io userò sempre il punto di messa a fuoco centrale quindi non ho il problema di dover usare tutto il monitor per mettere a fuoco perché usare tutto il monitor per mettere a fuoco come facciamo sulle mirrorless significa lasciare alla camera la facoltà di decidere dove stai mettendo a fuoco a me questo non va bene lo devo decidere io dove devo mettere a fuoco e lo voglio fare a mano fa parte del mio flusso di lavoro e quindi io mi trovo molto bene su una camera come questa ovviamente la 5D ha meno automatismi rispetto alle mirrorless ci sono certe cose come per esempio il detector del viso il detector dell'occhio che funzionano meglio sulle camere di nuova generazione sulla messa a fuoco video continua nel momento in cui io riprendo una persona e quindi ho il lock sul viso funziona anche sulla 5D ma sulle camere mirrorless funziona meglio in più sulle mirrorless posso lockare direttamente sull'occhio mettere a fuoco sull'occhio ed è più preciso ed è più veloce detto questo ragazzi siamo veramente giunti alla fine io vi lascio con qualche immagine nuovamente di questa meravigliosa fotocamera vi ricordo a questo punto di lasciare un like a questo video se avete trovato delle informazioni utili vi ricordo di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su quello che sto facendo io professionalmente come lavoro e le varie cose che andrò via via a recensire per voi quindi tutte attrezzature che ho già lì o che andrò via via a comprare verranno tutte recensite in maniera tale che vi posso offrire anche il mio punto di vista su che cosa può essere utile nel vostro caso perché io comunque vi racconterò cosa è stato utile nel mio caso quindi se facciamo cose che sono equiparabili probabilmente troverete utili anche voi le cose che vi sto andando a recensire attivate anche la campanella così quando escono questi aggiornamenti non ve li perdete e a questo proposito io vi rimando al prossimo video ciao